E ora invece le immagini del match Ternana-Pinetto terminato 3-0 per i padroni di casa, padroni di casa che iniziano subito con il piede sull'acceleratore con un casa sola davvero dirompente. L'argentino prova a suonare subito il primo squillo ma Tonti risponde presente. Il portiere abruzzese rinnova il duello sempre con Casasola all'ottavo, molto bravo Tonti. La gara però si sblocca al 31esimo minuto quando Cianci bisse il gol di Pontedera sfruttando nel migliore dei modi l'assist dalla sinistra di Tito e la sponda di Curcio. La gara è a senso unico, la Ternana continua a spingere, prima dell'intervallo piazza la stoccata del raddoppio, ancora Cianci servito in contropiede costringe Tonti ad effettuare gli straordinari. Una gran parata però il portiere abruzzese non può nulla poi sul tapin di Romeo. Nella ripresa la formazione di Abate amministra il doppio vantaggio e al minuto 57 trova il terzo gol sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dalla bandierina vatito per la testa di Cianci. Il Pineto abbozza una reazione, sfiora la rete con Fabrizi di petto, ancora Pineto sempre con Fabrizi che però di testa non inquadra la porta. Infine c'è questa conclusione di Pellegrino che però finisce fuori. Ternana poi sarà di nuovo pericolosa con Dondonanumma nel finale. L'ultima azione della gara nel prossimo turno, sabato 21 settembre con inizio delle 20.45, altra trasferta per il Pineto sul campo della Torres.